il film che state per vedere è un film un po particolare perché è fatto tutto salvo un breve spezzone all'inizio di materiali già esistenti questi materiali già esistenti provengono tutti da un'unica fonte che il cinema e archivio cinema impresa di idea cosa colleziona l'archivio cinema impresa dovete fare un attimo di sforzo e provare a immaginare un mondo che non è esattamente come quello di adesso un mondo che inizia all'inizio del 1900 e si protrae fino a metà del 1900 degli anni 70 del 1975 che è più o meno quando vedrete il film si ferma in cui le industrie e parlo appunto anche del 1910 quindi anche molto molto presto documentavano le loro attività non facevano pubblicità non pensate che quelli che state vedendo sono dei commercial degli spot o come li volete chiamare c'era l'idea che se tu costruivi qualche cosa una macchina una diga una strada un ponte o un prodotto qualsiasi dovevi documentare il processo di produzione era bello in sé vedere come venivano prodotte le cose per molti motivi che credo poi intuirete vedendo il film stesso ecco che così si creano all'interno delle aziende soprattutto quelle grandi ovviamente dalla fiat in giù gruppi specificatamente dedicati a documentare questo fatto e così si creano i film film di 10 20 minuti mezz'ora talvolta talvolta cinque minuti dove si racconta come viene fatto un prodotto e perché quel prodotto è buono questi materiali ovviamente con l'avvento di una modernità che appunto possiamo datare al 1975 80 vengono soppiantati perché cambia il mondo arriva la pubblicità come l'avete conosciuta voi come l'abbiamo conosciuta anche noi e di qualche anno più anziani che sostituisce completamente quello che vi sto dicendo cioè non si fanno più dei film per far vedere come si fanno le cose e nello stesso tempo nel momento in cui fai vedere come le cose sono fatte stai dicendo che le stai facendo bene ma si fanno delle pubblicità che cercano di convincere che quel prodotto fatto bene o fatto male non importa utile o inutile non importa ma che quel prodotto vale la pena di essere comprato e così tutto questo mondo finisce finisce viene dimenticato resta negli armadi negli archivi addirittura c'è chi lo vuole buttare via per fortuna nasce questo archivio che riesce a recuperare nel corso del tempo tutto questo materiale che ormai era abbandonato e che confluisce in unica unità che si trova appunto a ivrea unità che è fatta di un grande magazzino con molte pellicole ovviamente parliamo di pellicole si girava ancora in pellicola si è girato in pellicola fino al 2000 sostanzialmente adesso è tutto digitale ma un altro mondo quello che fa l'archivio è digitalizzare tutto questo materiale e in qualche maniera renderlo disponibile io non avevo un rapporto con l'archivio io faccio il regista di film di finzione e di film documentari il direttore dell'archivio un 5 6 anni fa che era sergio toffetti mi dice io penso che se viene un regista e guarda questo materiale probabilmente ne tira fuori qualche cosa che un semplice giornalista non non penserebbe e così nasce questo film io comincio a vedere il materiale un po poco all'inizio comincio a farmi delle idee poi ne vedo sempre più possibile e nasce la zuppa del demonio che vi racconta praticamente in ordine cronologico salvo questo punto la parte iniziale dal 1910 fino a metà degli anni 70 l'evoluzione di questi film che non sono interessanti in quanto film e basta ma sono interessanti perché raccontano un'idea del progresso il progresso un concetto sembra molto semplice no qualche cosa che è meglio di prima non è così chi ha vissuto il novecento sa che quell'idea di progresso in cui siamo cresciuti noi io sono stato giovane sono del 56 quindi potete immaginare così anagraficamente cosa ho attraversato l'idea del progresso per noi era molto diversa da quella che c'è adesso faccio un semplice esempio oggi il problema del mondo non è migliorare il mondo e conservarlo sapete tutti i problemi ecologici greta e l'emergenza climatica eccetera eccetera non è un'idea di progresso è un'idea di conservazione cioè cerchiamo di non rovinare quello che c'è e perché cerchiamo di non rovinare quello che c'è perché forse quell'idea di progresso che c'era prima e che vedrete illustrata nel film proprio quello ti diceva ti diceva che l'uomo la civiltà l'industria avrebbero modificato il mondo per il meglio perché la natura invece di essere considerata per tutto il novecento una sorta di alter ego dell'uomo cioè l'uomo sta in mezzo alla natura ed è una parte di un ecosistema il progresso aveva tutta un'altra filosofia la natura e qui i vostri insegnati vi racconteranno anche credo con molti esempi letterari l'idea che l'uomo era opposto alla natura e che quindi l'uomo doveva vincere la natura trasformare la natura distruggere ciò che era selvaggio per costruire un ordine del progresso e dell'industria che ha prodotto il mondo così come lo conosciamo noi almeno fino all'arrivo del digitale ecco non vi sto a dire di più su quello che c'è nel film credo che parli per conto suo vorrei solo significare questo che io non ho una tesi su questo su quello che dico nel film cioè io non voglio dire che il progresso era cattivo e all'improvviso adesso ci rendiamo conto che non bisognava progredire il progresso è stato fondamentale per molti versi perché ha migliorato la vita di tutti noi mi ricordo bene come era la vita negli anni 60 che già uscivamo dalla guerra quindi non era una situazione terribile ma se devo confrontarla con la vita di adesso era estremamente più scomoda diciamo così il progresso ha avuto una grande importanza nel migliorare le condizioni dell'umanità ma c'è stato un prezzo da pagare ora il tema è proprio questo quale qual è l'entità del prezzo che bisognava pagare per questo ecco perché vi dico guardate questo film con occhi aperti cercando di farvi un'idea vostra il film non vuole dire che il progresso era cattivo anzi vorrei dire questo che a me colpisce molto una situazione che riguarda i giovani di adesso e cioè questo senso di precarietà e di mancanza di un futuro mi sembra che tutti noi giovani ma solo come variabile di tutto il mondo anch'io non riesco a immaginarmi un futuro appunto come detto la massima aspirazione del futuro è conservare il presente viviamo tutti anche in un presente molto indotto dal dal digitale dal vivere su questi marchi ingegni che sto usando anch'io per fare questa registrazione ecco però come si dice questa mancanza di futuro è molto brutta perché noi invece siamo cresciuti con la certezza che il nostro futuro sarebbe stato migliore di quello quel presente che vivevamo da ragazzi perché ha una spinta molto forte dell'umanità quello di andare avanti costruire qualcosa di migliore da svariati punti di vista può essere una miglioramento materiale ma dovrebbe essere spesso anche un miglioramento profondo interiore purtroppo le due cose non vanno sempre di pari passo anzi ecco il film vuole essere diciamo positivamente ambiguo in questo senso spero che anche gli insegnanti non usino il film semplicemente come una dimostrazione di ecologismo credo che ci sia una profonda difficoltà nel dire chi chi aveva ragione davvero chi ha ragione davvero adesso diciamo per concludere che ci sono delle azioni che hanno delle conseguenze e ci sono le azioni tutte le azioni hanno delle conseguenze e quindi quando si fa qualche cosa ci saranno delle conseguenze bisognerebbe essere consapevoli altrettanto vero e qua davvero chiudo che anche quando non si fa qualche cosa o non si fa niente le conseguenze ci sono lo stesso sia perché lì anche l'inattività in sé produce qualche cosa la stessa in attività è comunque una conseguenza sia perché se tu non fai niente ma qualcun altro fa qualche cosa tu gli andrai semplicemente dietro e patirai quelle conseguenze anche se non hai voluto condividere l'iniziativa ci ho detto io spero che comunque vi divertiate perché il film è anche ironico e credo molto interessante dal punto di vista visivo quei materiali che vedrete sono straordinari sono stati anche fatti da registi molto importanti che prima di diventare registi di cinema premiati a can piuttosto che in altri festival sono stati dei lavoratori del cinema lavorando proprio in quel tipo di settore lì i testi anche se i vostri insegnanti ve li avranno voglia di approfondire la questione provengono da una serie di intellettuali molto importanti del novecento italiano detto questo la zuppa del demonio capirete perché sentitelo così il film dai dei primi cinque minuti non vi resta che augurarvi buona visione grazie a tutti